Abbiamo perso un arco? Grazie mille Ammirate l'ascensore Dai ragazzi Che favola Che bello Wow Beccalipa Che favola Ah vedi questa vista Allora siamo in mezz'ora Nuve Siamo a salire un po' troppo Ci sono i satelliti Forse abbiamo sbagliato Questo merita dai ragazzi Guarda Ma siamo già arrivati no? Oh Pecca 120 piani Certo Oh Guarda Wow Wow Hai visto? Che carino Perché faccio qualche foto Ah le fontane sono sotto qui eh? Le fontane guarda Ma sono a testa qua? Sì quelle lì Quelle Le vedi giù? Sì evidentemente adesso sono spente È presto Ma il tramonto quando è che? Alle 5 e 29 5 e mezzo 5 e mezzo Beh È bello Vediamo stare qua Un altro e mezzo Sì 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 Qua sotto ci sono le piscine Quelle che dove eravate voi Queste Un altro Sì Un altro E Un altro 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. 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 a tutti.